Anche Longarone entra a far parte dei comuni che in collaborazione con Confartigianato e Confcommercio e grazie al prezioso aiuto delle banche e del territorio sostengono le imprese del Bellunese in questo delicato momento. Da parte dell'amministrazione la disponibilità di 40.000 euro che diventeranno 480.000 grazie all'azione dei confidi. Le erogazioni andranno da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 e serviranno a garantire liquidità alle piccole aziende in difficoltà. I benefici vanno a tutte le partite IVA di ogni comune, artigiani, commercianti, agricoltori, qualsiasi azienda piccola, media azienda che necessita immediatamente con i costi bassissimi un'immediata erogazione di denaro. Chiaramente le valutiamo per la loro capacità restitutiva, quindi non è che possiamo darle così a occhi chiusi come si fa normalmente, vanno valutate e messe in merito. Oggi sono oltre 100 i comuni di tutte quante le province del Veneto che hanno aderito a questa iniziativa che ha un grandissimo vantaggio. Semplifica la necessità di ricorrere al credito per le imprese, facendoglielo ottenere ad un prezzo bassissimo, perché lo 0,70 e senza nessun altro costo è un prezzo bassissimo, ma soprattutto gioca su una leva, il famoso moltiplicatore che aprono i confidi, dove ogni 1.000 euro che si danno a un'impresa si riesce a mettergli in fianco 12.000 euro di finanziamento. Noi abbiamo la più grande zona industriale della provincia di Belluno, diverse attività artigianali ma anche commerciali. Va incentivata la possibilità di sviluppare una formazione nei nostri centri, che possono essere dei punti dove poter formare i nostri ragazzi, perché questa è un'esigenza del territorio ora molto forte. Gli istituti bancari scesi in campo per questa iniziativa sono quattro. Si tratta della Cassa di Risparmio di Bolzano, della Banca Popolare dell'Alto Abige, di Banca Prealpi San Biagio e di Cortina Banca. Noi come piccola banca abbiamo un rapporto privilegiato con le piccole imprese, con le imprese artigiane, con le famiglie. E quindi è uno strumento che sta avendo anche un ottimo seguito, perché le imprese stanno rispondendo molto bene.